buon pomeriggio a tutti e vi apro il pacco arrivato in questo momento di coltellerie maserine qui dentro abbiamo un saramanico nuovo si chiama artiglio è già online il nostro sito carta di imballi cosa abbiamo poi un diabolic un'educazione siberiana un task ed ecco qui artiglio caratteristica principale che cos'è è in acciaio di due eccolo qui lama tanto ha una lama da 100 mm un 220 totali in impugnatura in g10 in questo caso l'abbiamo in g10 grigio buona la presa si apre anche molto veloce con l'apertura flipper clip anche reversibile ripeto grigio poi qui abbiamo in g10 bel verde non tanto forte per finire g10 nero confezione maserine artiglio buonasera a tutti e ricordo www.contelleriacintilla.com qui 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 qui